Ciao a tutti, oggi con questo video tutorial voglio esaudire la richiesta di moltissimi di voi che mi hanno chiesto come realizzare la bordatura per uno scialle con una frangia un pochino più complessa rispetto a quella che è la frangia tradizionale che noi attacchiamo solitamente nelle sciarpe. Il tutorial è veramente un lampo, nel senso velocissimo, vi faccio semplicemente vedere come si annodano i fili della nostra frangia per renderla un pochino più particolare. Bene, vediamo subito come si realizza la nostra frangia per la rifinitura dello scialle. Allora, per farvi capire il modo in cui noi dovremo andare ad attaccare le nostre frange io piego a metà una delle mie piastrelline, così questo è il nostro scialle, noi le frange le dovremo attaccare in questo lato e in questo lato, va bene? Ora io per farvi vedere, ovviamente non lo posso fare sulla piastrellina perché è molto piccola, non riuscirei a farvi capire bene e quindi andò a prendere un lavoro che abbia un bordo, questa è una maglia, però andiamo a prendere un lavoro che abbia un bordo e quindi noi poniamo che il bordo del nostro scialle sia questo. Ora io prendo un filo a contrasto, io ho tagliato dei fili in cottone abbastanza spesso, quindi da lavorare con un uncinetto numero 4. Se state lavorando uno scialle con un uncinetto più piccolino e magari avete un filo più sottile, lo raddoppiate, anche se è sempre meglio per questo tipo di frangia utilizzare un filo singolo. Utilizzate dei fili abbastanza lunghi, fateli circa una cinquantina di centimetri, ve lo consiglio perché questo tipo di frangia è più comodo da realizzare se abbiamo un bel po' di filo, poi alla fine potrete tagliare e uniformare tutto il lavoro, come più vi piacerà, della lunghezza che più vi piacerà. prendiamo adesso i nostri fili, li pieghiamo a metà, ne pieghiamo ovviamente uno per volta, lo pieghiamo a metà, poi prendiamo un uncinetto e andiamo nell'estremità che vogliamo bordare, facciamo conto che questa è la fine del nostro scialle, questa è la punta dello scialle. Entriamo da una parte, entriamo proprio nell'ultimo punto, inseriamo il nostro uncinetto, prendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso, dopodiché prendiamo tutti e due i fili da sopra e li facciamo entrare nell'asolina, in questo modo. Procediamo con il successivo, pieghiamo a metà, saltiamo un punto ed entriamo in quello successivo, anche due punti, uno o due punti, se la lavorazione del vostro scialle è fitta, se la lavorazione del vostro scialle è più larga, basta un punto, ma se è fitta è meglio due, quindi io in questo caso, in questo bordo, ho una lavorazione fitta, entro nel punto successivo e vado a tirarmi dentro il filo, dopodiché allargo leggermente l'asola e faccio passare gli altri due. Terzo filo, lo vediamo ancora una volta, pieghiamo a metà il filo, saltiamo due punti, entriamo nel terzo e facciamo la stessa cosa, quindi prendiamo il filo, facciamo passare attraverso il punto della lavorazione, allarghiamo leggermente l'asola e ci facciamo passare attraverso i due fili, così, e procediamo in questo modo fino ad arrivare al termine del bordo, io adesso ne ho attaccati pochi per farvi vedere i passaggi, però voi proseguirete ovviamente fino al termine della riga del vostro scialle da una parte e dall'altra. Iniziamo adesso a vedere come si realizzano i bordi per lo scialle. Dividiamo ogni punto in due, iniziamo quindi col primo, lo dividiamo in due e spostiamo lateralmente il primo filo, che ora non ci serve. Dividiamo in due anche il secondo. I primi due fili li uniamo, cioè quindi il filo, i fili che sono vicini, li uniamo. Andiamo a prendere come misura le due dita, quindi l'indice e il medio della mano sinistra e andiamo ad attaccarci al bordo del capo, dello scialle, e facciamo un nodo, così. Dopodiché spostiamo questo nodo e abbiamo il filo che abbiamo lasciato stare. Prendiamo la seconda frangia e la dividiamo anche essa a metà. Questi due fili, quelli che sono accanto, quindi quello del secondo nodo e del terzo, questi che sono accanto, li prendiamo e facciamo la stessa cosa. Facciamo battere il medio sul lavoro e andiamo a fare un nodo. Se poi i nodi non sono uguali, ci aiutiamo con l'uncinetto, con un ago da lana, e li allineiamo, così. Dovrebbero venire abbastanza uguali perché la misura la prendiamo andando a tenere le dita contro la lavorazione. Facciamo la stessa cosa, quindi i due li abbiamo fatti, prendiamo il filo libero del terzo nodo e andiamo a dividere in due anche la quarta, così. Quindi uniamo i due fili e andiamo a realizzare il nodo. Stesso lavoro. Filo libero del quarto nodo, della quarta frangia, quinta frangia, dividiamo in due, prendiamo i due fili adiacenti, facciamo battere il medio contro il lavoro e facciamo il nodo. Facciamolo ancora una volta. Filo libero del quinto nodo, della quinta frangia, prendiamo la sesta, la dividiamo a metà, due fili, andandiamo. e procediamo così per tutta la prima parte della frangia. Quindi una volta terminato, noi dovremo ritrovarci con il primo filo e l'ultimo filo liberi. Questo è il primo passaggio. Passiamo al secondo passaggio. Nuovamente allarghiamo le frange, ovviamente sotto il nodo adesso, nella prima fase del secondo passaggio, andremo a prendere anche il primo filo e nello stesso modo con il quale abbiamo annodato qui sopra, andremo a battere il medio della mano sinistra contro il nodo precedente e facciamo un altro nodo. Così. Nuovamente abbiamo un filo libero, allarghiamo i fili della seconda frangia e nello stesso identico modo andremo ad annodare anche questi. Anche in questo caso, prima di stringere bene il nodo, controlliamo che la misura dei nodi sia simile, cioè sia vicini. Ora, se non è proprio perfetta non importa, ma più precisa è, meglio è. Dividiamo anche la terza frangia e andiamo ad unire anche questi due fili. Speriamo. Filo libero della frangia appena realizzata, dividiamo in due la frangia successiva, prendiamo due fili adiacenti e li uniamo con un nodo. e procediamo così fino al termine di tutta la frangia. Nello stesso modo con cui abbiamo iniziato andremo a chiudere quindi l'ultimo filo andrà ad annodarsi a quello libero della penultima frangia. Ecco qui. Ed ecco qui la nostra frangia terminata. Ora, se voi volete continuare potete anche tranquillamente continuare annodando ovviamente nuovamente, allargando i nodi ve li ho fatti larghi, potete farne anche più fitti se volete fare più passaggi, dividendo le frangie a metà e andando ad unire due fili che sono adiacenti di una frangia e dell'altra, questi due. E potrete continuare così fino a quando vi parlo. Due passaggi secondo me per uno scialle sono più che sufficienti. Ora, per uniformare il tutto allineerete bene la vostra frangia in questo modo. e andrete a tagliare la parte in eccesso di filo così e avete la vostra frangia terminata che avete visto velocissima da realizzare, veramente una sciocchezza da fare, però arricchisce molto molto la lavorazione del vostro scialle e lo rifinisce e lo rende un capo più completo. A questo punto il tutorial è terminato. ve l'avevo detto era molto veloce io spero di aver accontentato tutte le amiche che mi avevano appunto chiesto un metodo un pochino più carino delle solite frange lineari da attaccare appunto allo scialle e questo è l'avete visto molto molto semplice è un pochino lungo come lavoro perché ci sono tanti nodini da fare però una volta che avremo terminato il nostro lavoro il nostro scialle sarà ancora più prezioso. bene io prima di salutarvi vi ricordo che su facebook c'è il nostro gruppo gli amici dell'angolo di Chris saluto tutti gli amici e le amiche che sono già iscritti e gli mando un grandissimo bacione e vi aspetto tutti per farvi quattro chiacchiere tranquille e anche qualche risata come vi dicevo il tutorial è terminato io vi ringrazio tutti per avermi seguito vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial ciao